fonditalia ci troviamo con stefani santa in quella di dobiaco sotto la neve che è già una bella notizia visto il periodo il periodo storico si avvicina la dobiaco cortina e volevo chiedere appunto da comitato organizzatore intanto a che punto a quel punto è la preparazione si manca poco il tempo vola come per tutti tutto l'anno stiamo preparando tutto l'anno la dobiaco cortina sia un evento molto importante per dobiaco e ci sono tanti stranieri e si si lavora tutto l'anno per fare sì che tutti gli amatori tutte le appassionate del fondo abbiano una esperienza unica quadro biaco quanto è importante vedere che anche il meteo è dalla vostra parte insomma proprio nella marcia d'avvicinamento all'evento sì sicuramente la neve per un sport invernale è la cosa più importante adesso sta nevicando la neve c'è sulla pista il tracciato è quasi pronto manca ancora un pezzo l'ultimo pezzo per andare giù per cortina che deve essere ancora abbattuto ma siamo siamo a buon punto e quest'anno siccome la dobiaco cortina è in concomitanza con la coppa del mondo la partenza non sarà l'aeroporto ma sarà praticamente sotto i piedi delle tre cime al al punto panoramico della delle tre cime si partirà sul prattone lì sotto le tre cime si va verso il lago di landro per poi uscire verso dobiaco fino prima dopo il lago di dobiaco si prima della nordica arena praticamente si ritorna in su per cime a banche per andare giù a cortina ecco forse uno dei segreti della dobiaco cortina è proprio la bellezza anche del paesaggio io penso che la dobiaco cortina ha fatto tante gran fondo e la dobiaco cortina è una delle più belle prima cosa perché il paesaggio veramente unico ci hai sì è un po' selvaggio diciamo però hai anche le due gallerie praticamente che sì non ho mai fatto in una gara di fondo delle gallerie illuminate così lunghe sì poi mi incuriosisce il fatto che una parte va anche sulla vecchia linea ferroviaria quindi poi ci sono e si gareggia su dei binari sì sì infatti per quello io amo l'alternato si gareggia sui binari come sul treno no infatti le gallerie sono ancora della vecchia ferrovia sì si faranno praticamente il sabato ci sarà la gara classica che sarà a 42 chilometri e anche la domenica ci sarà come novità la stessa distanza sullo stesso tracciato abbiamo deciso come comitato organizzatore di fare la stessa distanza per poter anche in qualche modo i combinatisti potersi confrontare con i tempi nella tecnica classica e nella tecnica libera questa adesso è una prova che facciamo quest'anno poi vediamo le reazioni dei partecipanti, degli atleti se sono contenti altrimenti faremo di nuovo la distanza più breve ecco Simeone mi racconti una cosa perché tu hai vinto da atleta questa gara raccontami un po' le emozioni che hai provato e cosa provi adesso a pensare che l'hai vinta nel vedere che ancora tanta gente viene da tante tante altre nazioni per gareggiare qui e tu sei riuscire a toglierti questa soddisfazione Sì, vincere a casa è sempre bello, ogni gara è diversa io preferisco gareggiare, adesso organizzo perché non riesco più a allenarmi però gareggiare è sempre una grande emozione e la passione di tutti gli amatori che vengono a fare ogni anno la due acocortina di tanti paesi diversi sì, è molto bello vederlo se dovessi dire a una persona, vieni gareggio oppure vieni a vedere la Dobbiaco Cortina ecco, invitalo, invita questa persona a farlo sì, vieni a fare la Dobbiaco Cortina perché è una gara unica, stupenda e ti toglierai tante soddisfazioni, tanti ricordi e qua nel paesaggio dell'UNESCO sotto le tre cime arrivo a Cortina, la città olimpica sì, vieni a farla sì, vieni a farla